Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, profondo, appassionante e ricco di umorismo, che unina la forza dei legami familiari e all'importanza di dare un senso alla nostra vita. L'autrice ci invita a fare una pausa nella frenesia quotidiana per esplorare le tappe della nostra esistenza ed esprimere gratitudine verso coloro che condividono il nostro cammino. La trama del libro Il vento soffia dove vuole della scrittrice Susanna Tamaro pubblicato dalla casa editrice Solferino è la seguente. Ci sono momenti nella vita in cui si sente il bisogno di prendersi una pausa e ripercorrere con calma, senza le continuo inconvenzi quotidiane, le tappe della nostra esistenza. Un viaggio che, anche nei momenti difficili e bui, ci ha portato a provare un sentimento di riconoscenza e gratitudine verso chi ha condiviso con noi il cammino, le prove, le epifanie. Così chiara, alla soglia dei 60 anni, approfittando dell'improvviso silenzio che avvolge la sua casa in collina, decide di scrivere tre lettere. La prima alla luminosa figlia adottiva Alicia, ormai ventenne. La seconda alla diciottenne Ginevra, la problematica figlia naturale. E la terza all'amato e solido marito Davide, con il segreto intento che un giorno la farà leggere anche al piccolo Elia, arrivati in un momento di grande crisi familiare. Sono tutte, in qualche modo, lettere d'amore, declinate nei diversi linguaggi in cui si esprime questo sentimento invincibile e misterioso, che ci lega indissolubilmente gli uni agli altri, aprendo nel nostro cuore porte segrete che non sapevamo di avere. Trent'anni dopo, va dove ti porta il cuore? Susanna Tamaro ci riporta all'interno di complesse dinamiche generazionali, regalandoci pagine preziose che sovrastano il vociare confuso di questi tempi. Il vento soffia dove vuole, ci cattura, ci consola e ci guarisce. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami per favore a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.